La cantina sociale Vini dei Colli Sabini è nata nel 1969 da una serie di produttori e viticoltori che si sono consociati per poter meglio promuovere il prodotto finale, cioè il vino, sul mercato. I nostri produttori associati sono circa 150, ci sono anche dei piccoli e giovani imprenditori agricoli. Loro stessi hanno come finalità la coltivazione della vite e anche di altri prodotti, oltre che quella dell'olivo. Le finalità sono quelle di promuovere i prodotti della zona, del territorio e di offrire sul mercato l'eccellenza per quel che riguarda vini e olio. Nel 1996 è stata ottenuta anche la denominazione di origine protetta dei prodotti D.O.P. Sono prodotti che vanno per quello che riguarda la viticoltura su vitigni sangiovese, montepulciano e merlò per i vini rossi, e trebbiano toscano, trebbiano romagnolo, anche malvasia del Lazio e la malvasia di Candia. Sono prodotti che poi confluiscono nella produzione dei vini DOP e IGP del Lazio. Grazie a tutti!